Grazie a tutti per aver accettato il nostro invito a partecipare a questo incontro che non è molto partecipato data la giornata ancora estiva che invoglia sicuramente più a stare fuori che a venire in un luogo storico della storia della sinistra italiana. Grazie ai nostri ospiti per aver accettato il nostro invito a partecipare. Io sono Melissa Mongiardo e oggi faccio gli onori di casa dell'associazione Enrico Berlinguer, vi porto i saluti del nostro presidente Ugo Sposetti che per motivi indipendenti dalla sua volontà non è riuscito a raggiungerci in tempo e con oggi si inaugura in un luogo a noi molto caro e che speriamo che possa tornare presto ad essere uno dei luoghi della cultura della sinistra di questa nostra amata Roma un ciclo di eventi finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle iniziative promosse per i cento anni dalla nascita di Enrico Berlinguer e dicevo appunto è un'iniziativa che parte di un progetto più ampio che si chiama Le parole i luoghi di Enrico Berlinguer che culminerà a seguito di questo ciclo di iniziative con l'inaugurazione della mostra nazionale su Berlinguer che faremo a testaccio al macro dal 7 dicembre alla metà di febbraio. Perché teniamo molto a questo ciclo di incontri e a queste iniziative? Perché l'obiettivo, uno degli obiettivi dell'associazione è sicuramente quello di valorizzare e conservare la storia politica del Partito Comunista Italiano e soprattutto provare a dare ai giovani la possibilità di conoscere quel mondo che per ragioni anagrafiche non hanno potuto vivere e con il quale non sono stati in grado di potersi gioco forza misurare. Motivo per cui abbiamo chiesto di moderare tutto questo ciclo di iniziative ai giovani del Partito Democratico o ai giovani dei giovani democratici, scegliete poi voi la declinazione che meglio preferite adottare. Oggi iniziamo con uno dei temi all'ordine del giorno della cronaca politica di questi anni, purtroppo dobbiamo dire che è il tema della pace e lo facciamo attraverso le parole dei discorsi di politica internazionale tenuti da Berlinguer durante la sua segreteria che Alexander Ebel ha raccolto in questo volume di Donzelli. Abbiamo chiamato e abbiamo l'onore di far inaugurare questo ciclo di incontri dell'onorevole Nicola Zingaretti. Prima di lasciare la parola alla nostra giovane promessa del Partito Democratico, Nastasia Abdank, per noi nasti, vi invitiamo all'incontro, al prossimo incontro che si trà il 15 di settembre, venerdì prossimo alle ore 18, dedicato all'altro 11 settembre. Quindi quest'anno ricorrono, l'11 settembre di quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario dei fatti del Cile. Ne parleremo con Donato Di Santo che è stato l'ultimo responsabile dell'America Latina per il PC, PDS e DS e per l'occasione, al di là di proiezioni di documenti originali dell'epoca che raccontano quello che è successo e alle parole di Donato che ci racconterà quanto quell'esperienza è stata importante nella storia politica di Enrico Berlinguer. Abbiamo fatto, ora lo vedete qua in anteprima, poi lo distribuiremo nel prossimo evento, abbiamo rifatto la copia anastatica dell'opuscolo dei tre articoli di rinascita che scrive Berlinguer, appunto, riflessioni dopo i fatti del Cile. Questo te lo lascio perché immagino che non ci sarai al nostro prossimo incontro e lascio la parola a Nasti. Grazie.